Mi chiamo Teresa Taranova e sono una filmmaker. Quest'anno ho fatto nascere la mia azienda, che si chiama Mimetos, la dialettica della creatività visiva. Mimetos è una parola che deriva dal greco e significa colui che riproduce un modo d'essere, che fa una rappresentazione, un'imitazione di persone o cose. L'amore per le arti visive l'ho ereditata da mio padre, che è un direttore della fotografia e un regista. Fin da piccola ero con lui sui set in mezzo a comparse e attori. Il mio lavoro ora consiste nel ripensare, riplasmare e spesso involontariamente abbellire quella realtà che vediamo riflessa nelle immagini catturate dalla telecamera o dalla cinepresa. Il mio campo di azione è soprattutto quello dei filmati aziendali e promozionali, senza dimenticare però la realizzazione di video anche in un campo a me caro, cioè quello culturale. Quest'anno nel giro di pochi mesi ho realizzato filmati per importanti industrie frulani. Ho vinto un premio nella sezione Design e Impresa all'Asolo Art Film Festival, con un video che indaga le più importanti personalità che operano in Friuli nel campo del design. E ora sono a Parigi, con l'incarico di montare un film documentario di una produzione italo-francese su gioielli di lusso. Per iniziare tutto ciò è stato molto utile per me il corso di formazione e le consulenze individuali del progetto Imprenderò, che mi ha offerto gli strumenti necessari per comprendere la linea giusta del mercato nella quale inserire la mia idea di impresa. Spero che il progetto imprenderò continui e che cresca specializzandosi sempre di più. Grazie a tutti e alla prossima!